Parlare di indecenza è un eufemismo. Guardate le immagini che abbiamo girato grazie alla segnalazione di un nostro telespettatore che ha deciso di chiamare Rete Veneta, a dir poco indignato dalla totale assenza di senso civico dei soliti ignoti. Siamo in via Cristoforo Colombo a Bassano, all'altezza della rotatoria di intersezione con via Valsugana e via Capitel Vecchio. È chiaro che qualche scellerato, senz'altro più individui, ha acquistato cibo da sport in uno dei vicini fast food e dopo averlo consumato ha gettato sulle aiuola, tra le piante, sacchetti, scatole vuote, bicchieri, plastica, carta, bottiglie, di tutto. Uno spettacolo degradante che ha potuto notare chiunque sia passato in giornata lungo la strada. Speriamo che magari grazie alle telecamere del centro commerciale attivo si riesca a risalire ai responsabili.